Sono 700 anni della morte di Dante, Gardar non poteva mancare a fare la sua celebrazione che si concentrerà e si sta concentrando sul personaggio più famoso della Divina Comedia che è Francesca da Rimini e proprio lei, proprio Francesca, infatti è il tema che unisce il motivo trainante di questo tournée dell'Orchestra Sifoca Statale di Mosca che abbiamo presentato proprio poco fa e a Gardar ci saranno due concerti il 21 e il 22 di agosto con i due più grandi compositori russi, Tchaikovsky e Rechmanov che affascinati dal mito di Francesca da Rimini alla fine dell'Ottocento hanno composto due opere a lei dedicate. Avremo un'orchestra al complito che metterà in scena le due opere di Tchaikovsky e Rechmanov a Gardar. A Pesor invece cambia il repertorio e sarà un ammaggio al genio di Giochino Rossini. È possibile acquistare i biglietti per Gardara sul sito, sulla pagina Facebook del Comune sul sito ufficiale del Comune, il costo è 25 euro a persona e il luogo è la Piazza d'Armi della Rocca il posto più suggestivo che abbiamo a Gardara. Ci piace questa sinergia con Gardara intanto perché è un evento musicale internazionale che potrà misurarsi sia nelle bellezze del castello e del borgo di Gardara e anche poi in un luogo ovviamente deputato storicamente alla musica come il Teatro Rossini. L'occasione è importante perché comunque è un'orchestra della città di Mosca quindi è anche un soggetto importante, un puntista musicale, una collaborazione con l'Istituto di Cultura Russo in Italia e anche delle voci importanti all'accompagnamento quindi diciamo in immediata continuità con il Rosinia Prafestia il giorno dopo aver salutato il 25esimo di Florez e il Presidente della Repubblica avremo una nuova serata di musica quindi invitiamo anche chi ancora non l'abbia fatto a prenotarsi per avere appunto il biglietto gratuito per questo spettacolo che crediamo sarà molto importante, molto interessante e soprattutto importante in termini di relazioni internazionali con questa orchestra importante che viene da Mosca. Sono arrivata per la prima volta a Gradara in 2019 e così ho scoperto questa bellissima storia con un bellissimo castello dove la tragica storia dell'amore di Francesca e Paolo si è svolta e ho pensato immediatamente che 700 anni della morte di Dante arriveranno molto presto e sarebbe bello di portare i grandi maestri russi la musica di Tchaikovsky e Rachmaninov in Castello di Gradara speriamo, speriamo che questo sarà un inizio del bel corso musicale che faremo insieme con la regione di Marche e anche con due belle città di Gradara e Pesaro.